Quasi 500 grammi di sostanza stupefacente sequestrata ad un potenziale corriere della droga. È stato nei giorni scorsi che gli uomini della Guardia di Finanza di Caltanissetta, a seguito di attente indagini, hanno controllato un venditore ammulante di generi alimentari che aveva già avuto precedenti penali per reati sugli stupefacenti. Così dentro un furgone spezionato dalle fiamme gialle è stata ritrovata della droga. Si tratta di 81 grammi di marijuana e di 232 grammi di hashish. Un ulteriore controllo è stato fatto poi a casa del venditore ed anche lì sono stati ritrovati 9,56 grammi di marijuana e 75 grammi di hashish. Oltre a 140 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione. All'esito delle indagini e dei controlli su decisione dell'autorità giudiziaria, i militari hanno proceduto all'arresto in flagranza contestando il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno condotto l'uomo nella casa circondariale di Caltanissetta. L'operazione si inserisce tra le attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria condotte dalla Guardia di Finanza.